La gara ufficiale di X-Factor è già iniziata, ma i giochi non sono ancora fatti. Uno dei talenti eliminate agli home visit avrà infatti la possibilità di rientrare nello show. Tra questi ci sono gli Up3Side. Pensavamo che se è finita ci dovevamo abituare, e invece no, siamo di nuovo qui e siamo pronti, insomma, speriamo di essere pronti a leggere la linea. L'esperienza del ripescaggio ha rivelato dei risvolti positivi, soprattutto a livello umano. A pensarla così è Michele, il candidato degli over. Sì, forse la cosa più bella è questa, e abbiamo avuto modo di poterci rincontrare e conoscerci meglio. Qual è l'arma segreta con cui i concorrenti cercheranno di conquistare il voto del pubblico? Gaia, l'incredula e ritrosa Under ripescata da Elio, mantiene un profilo basso. Il favorito però, a detta di tutti, sembra proprio essere Alessandro, il golden boy con cui l'avventura cercherà di rimpiazzare Nicola, il primo eliminato. C'è ora di conquistare il pubblico con la personalità e senza fare troppi spisi. No, a parte gli scherzi, cercherò di dire che ringrazio tantissimo Simone e mi ha avuto questa opportunità. No, a parte gli scherzi, cerchi, 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 cerchi.